Buongiorno a tutti e benvenuti da PS Scrap. In questo video vi presento l'album che sarà oggetto della replica del corso Album Baby. La diretta si terrà domenica 10 settembre 2023 a partire dalle 16 in un gruppo Facebook dedicato. Grazie alla replica del corso imparerai a realizzare un album di grandi dimensioni che, rispetto alla versione originale, risulta semplificato. Per informazioni su iscrizione e costi, puoi mandare un'email a paperscissorstrap.gmail.com oppure mandare un messaggio alla pagina PS Scrap Creazioni su Facebook. Ti aspetto per altri video sul mio canale. A presto! Grazie a tutti!